Frontiere blindate in Finlandia per i turisti russi, una decisione presa per diminuire l'arrivo nel paese di cittadini dalla Russia fino alla metà del livello attuale. Secondo il ministro degli interni finlandese, Chris Mikkonen, d'ora in poi il governo considererà tutte le richieste in modo individuale. Chi vorrà potrà fare richiesta d'asilo oppure cercare di attraversare il confine in modo illegale. Siamo preparati, detto Mikkonen, le restrizioni entreranno in vigore questo venerdì e rimarranno tali fino a nuovo avviso. Per il ministero degli esteri finlandese fare domanda per visti umanitari sarà una possibilità, però ci vorranno diversi mesi prima che tali visti potranno essere rilasciati. Dunque i cittadini russi potranno entrare in Finlandia solo per motivi particolari come visita ai parenti, per lavoro o per ricevere cure mediche. Attualmente si stima siano 100.000 visti turistici finlandesi in uso da parte dei cittadini russi. Un visto turistico finlandese permette la permanenza non solo in Finlandia ma anche in tutta l'area Schengen.